Tieni, 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 taglia! Quanta roba, questa gente! Io sono... Mi ha fatto il caffanello? Sì, anche a me. Mi ha fatto il caffanello. E infatti si salutano così. Sì, e... E questi sono i nostri amici. Ti hanno... ci hanno aiutato. Ah sì? Non ti ricordi niente? No. Come no? Prima eri un topolino. Un topolino? Sì, hai preso il cioccolatino dalla strega e ti ha trasformato in un topolino. Ma sì! Tu fratelli sono venuti in un tavolo. Ti ha liberato da un fare un po'... Dove esco? Tu ti dite che è vera questa cosa? Sì! Ah, dove devi ringraziare il caffanello? E questi bambini? Devo ringraziare lui. Sì! Ma se non fa mai niente l'avrete aiutato voi di sicuro? Sì. Ah, è vero allora! Ma papà mia! Allora è vero! No, 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 allora adesso io prendo con me tutti i bambini e tu vai a casa, visto che non fai mai nulla, almeno avvisa che tu vado tanto. No, 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 io vado a casa e tu vai con loro. Certo, è quello che ho appena detto. Però è diverso. Noi andiamo, vero bambini? Andiamo? Andiamo. Ciao, grazie. Ciao, allora! Grazie amici! Prima di andare ho bisogno di... È vero! I campanellini! Date i campanellini! Da donna fa... Perché? Se dovemmo fare altre macchine... Grazie! Grazie! Adesso mi troverete sempre qui, vicino al cervello... Grazie! Grazie a tutti!